Ma non ti eri mai fatto vedere prima? Da piccolo. Se non si trova entro la fine dell'estate siamo due sfigati. No, aspetta. Non ti fidi. No, è che ci siamo appena conosciuti. Ah. Forse perché all'inizio uno dà più importanza ad altre cose. Tipo il sesso? Beh, anche sì. Certo. No? Sì, sì. Lei almeno ha prende due polpi. Per far cosa? Per trombarsi. Che cazzo dici? Perché è la osa più simile alla topa che esiste. Solo te perché in Inghilterra si dice octobussi? Che c'è? Ha fatto il mio polpo? Ah, l'avevi comprato te? Ma perché dovevi chiamare una puttana? Per tutto. Ti dà una mano. Dolori, eaculazioni precoci, blocchi mentali. Hai già visto? Sì. Alcuni ce l'hanno. Però volendo posso anche farmi fare una sega e basta, no? Ma sei scemo. C'è una sega a 150 euro la faccio io. Vorrei mettere la testa fuori dal finestrino, però c'è sempre paura di una galleria, di un palo. E quindi non lo fai? Eh, no. Però io lo voglio fare. There's just one place to hide, I am one.